Per finire, e Stefano e Rosa Lucia stanno per svelare quale sarà la loro casa a prima vista. Per inaugurarla riceveranno un welcome kit di prodotti testili per la casa. Sfinito dalla fine dell'estate, affrettati! Fino al 1 ottobre con Power King Offerta e un Whopper Menus Mollo, Chicken Royale Menus Molla, soli 4,95 euro. E da oggi scopri il nuovo programma fedeltà BD King. Guadagni corone e conquisti super vantaggi, solo da Burger King. Il tema di oggi è il gioco. Magari è un gioco al massacro. Dovrete fare una torta scacchiera. Io adoro giocare a scacchi, baby. Bake Off Italia, questa sera alle 21.20 su Real Time, Canale 31. L'amore è un continente inesplorato. Mi sento un frullatore di emozioni. Non sono portato a fare la prima mossa. Ora agli sposi non resta che scoprirlo. Matrimonio a prima vista Italia, mercoledì alle 21.20 su Real Time, Canale 31. Maestro, ancora una domanda. Perché si chiamano divani di ultima generazione? Signor Scott, venga con me. Qui si può allungare quanto vuole. Se m'allungo quelli del TG si arrabbiano. Questo lo cambia come vuole. Geniale! Si fa zappi in quei cuscini. Risparmia più del 50% sulla collezione Quizza. Faenza a 899 euro. Betto a 1090 euro. Oltre un sofà, solo divani di qualità. Risposta esatta. La bontà è una tua scelta. È vivere in modo un po' più sano. Come i wafer Loaker Multicereali. Sono buonissimi anche con farine integrali di farro, grano e avena. Loaker, la tua scelta buona. Io non ho bisogno del vaccino contro l'HPV. Eppure io. Neanch'io. Nemmeno io. Figurati io. Tutte queste persone si stanno sbagliando. Il papilloma virus o HPV è un virus che colpisce 4 persone su 5 senza distinzione di età o di genere. Ed è causa di tumori potenzialmente letali. Esiste un modo semplice per proteggere il nostro futuro e quello dei nostri figli a partire dagli 11 anni. La vaccinazione. Se non l'hai ancora prenotata, fallo subito. Il gran fusillo Boiello, con le sue spire, non avvolge un sugo, ma la vostra volontà. Avrete un piacere, ma perderete la crianza. Boiello. La pasta come Napoli comanda. Brute testato, riduce le imperfezioni del 44% Chanteclerc. Verth, gli eco-detergenti che funzionano. Verth. Tieni sempre con te quello che ti rende felice. Fette integrale mulino bianco. Da oggi, con una nuova croccantezza. Cerca la tua felicità. Marco? Chi c'è? Il solito problema? Ma che faccia delusa. Fairy Platinum Plus. Numero uno contro lo sporco ostinato. Fatti. Non parole. Fairy agisce non appena tocca l'acqua. Reidrata il cibo secco e lo rimuove velocemente. Questa sì che è una faccia soddisfatta. Lada con Fairy e Hotpoint per un pulito eccezionale. Entra in casa.it e immagina la tua nuova casa. Immagina le domeniche in famiglia. E anche il doposcuola con gli amici. Immagina i concerti di prima mattina. E le ultime riunioni del pomeriggio. Cerca, trova e immagina la tua nuova casa su casa.it. Scarica l'app. Se è casa, è casa.it. Con Just Eat sconti fino al 30% sui tuoi piatti preferiti. Scarica l'app. Con Emma. Cambiare materasso, letto e cuscini. È facile come... Acquista ora su emmamaterasso.it Ci sono cose che non dovrebbero incontrarsi mai. Come il tuo ex e il tipo con cui esci. La pizza con l'ananas. O le ali del tuo assorbente. Ma da oggi nuovo Linese Seta Ultra. Ha le ali a incastro perfetto. Che non si incollano tra loro. E lo rimuovi con un gesto. L'asciutto pulito numero uno con incastro perfetto. E per la notte, quando hai bisogno di più protezione. Linese Seta Ultra notte. Più lungo. E assorbi fino a otto ore. Linese. Ogni notte. Una buona notte. Una buona notte. Una buona notte. Per me. All of me. La nuova fragranza di Narciso Rodriguez. Una battaglia legale senza esclusione di colpi. Raccontata da entrambi i punti di vista. La loro era una relazione tossica. Non perdere tutti i retroscena di Kim Kardashian contro Kanye West. Il divorzio. Guardalo ora su Discovery+. Lenora Stoppables Aggiungi le perle profumate prima di ogni lavaggio per un wow di freschezza. Che dal mattino che wow di freschezza dura fino alla sera quando tutti sentiranno ancora questo wow di freschezza. Lenora Stoppables wow di freschezza non stop. Stefano e Rosa Lucia hanno preso la loro decisione e stanno per svelare ai nostri agenti quali?